Allora abbiamo parlato di aspetti positivi di ripresa, sono molto importanti, vari settori, vari ambiti dell'agroalimentare stanno segnando segni più importantissimi e significativi. Provedimenti in regione, l'abbiamo detto, quindi per apertura ai prodotti del territorio degli agricoltori, dare un reddito maggiore con la GDO. Ci sono però ancora delle criticità e visto che siamo nel territorio padovano ci troviamo ancora i cinghiali in circolazione, è un continuo praticamente. Ci sono agricoltori che si sono tutelati, hanno preso dei provvedimenti ma sembra non bastare questo. Perché è un eterno problema, non ha soluzione, direttore? Non è una soluzione perché non c'è la modifica della normativa della 157 perché il punto sta là. Cioè nel senso che quando è venuta la normativa della fauna selvatica ancora nel 1992 aveva una sua caratteristica che era quella di proteggere determinate specie selvatiche. Ma oggi non possiamo più proteggere alcune, dobbiamo fare delle selezioni per cercare di contenere le specie all'interno del territorio e quindi dobbiamo modificare quella normativa. I cinghiali a Padova diventano un ulteriore grosso problema perché mentre prima erano selezionati all'interno purtroppo in un'area specifica che è quella del parco dei Colli, oggi sempre più i cinghiali per l'alimentazione vanno anche in territori che vanno al di fuori del parco dei Colli e quindi nella bassa padovana, a destra, a Monsedice, creando grossi danni alle nostre aziende agricole. Cioè si trovano tranquillamente fuori dal territorio del parco. Assolutamente, quindi per questo bene ha fatto alcuni consiglieri regionali e che noi abbiamo appoggiato da subito l'incontro con i vari istituti, perché qui dobbiamo far intervenire la provincia, dobbiamo far intervenire la regione, dobbiamo far intervenire il ministero per individuare la possibilità di una riduzione e soprattutto un contenimento della fauna selvatica. Perché vede, poi l'altro problema è questo, nel momento in cui vai a parlare con la provincia, la provincia è una competenza della regione, vai a parlare con la regione la competenza è del ministero. E quindi è anche qui un altro elemento di criticità, dobbiamo trovare i giusti interlocutori che ognuno si assuma la propria responsabilità. Però la competenza sostanzialmente qui è regionale o del ministero? Ma guardi, la competenza è regionale chiaramente, quindi la regione deve intervenire con i selecontrollori e deve intervenire in maniera chiara. La regione ultimamente addirittura ha fatto un piano di contenimento della fauna selvatica, nel caso specifico dei cinghiali, demandando anche alle province la possibilità di intervenire fuori parco dei colli con i propri selecontrollori, con la propria pulizia municipale. Quindi dobbiamo concretizzare quello che c'è scritto nel piano. E non è stato concretizzato? Non è stato ancora concretizzato, lo dobbiamo concretizzare. Dove sta il problema? Che ognuno si deve assumere la propria responsabilità e su questo si deve intervenire, perché questo è l'altro aspetto. Oggi chi resta con il problema sono gli agricoltori, perché i cinghiali in un'unica notte fanno un disastro sui terreni, ma non solo rovinano le nostre culture, ma rovinano anche il paesaggio, rovinano anche la parte idrogeologica. Esatto, c'è il rischio idrogeologico, perché scavano dappertutto, smuovono il terreno. E oltre ai cinghiali abbiamo anche il problema delle nutrie, perché l'altro problema che noi abbiamo, non è solo un problema di Padova, ma è un problema anche a Rovigo, ma è un problema anche a Venezia, sono le nutrie che scavano grotte immense, problemi immensi sui canali consortili, creando frane e creando diparamento nel territorio. E anche su quello c'è un piano di contenimento e dobbiamo attuarlo. E quindi a ognuno le proprie responsabilità per l'attuazione dei piani che oggi noi abbiamo individuato. Ma perché si parla così poco di questo problema che sembra quasi non esserci e invece è particolarmente sentito per l'agricoltura? Non tanto i cinghiali che vabbè perché li vedono anche i cittadini, perché si muovono anche di notte per le strade, di sera insomma perlomeno. Perché le nutrie non vanno per strada e quindi non creano grossi problemi anche di incidenti stradali come si sono provocati i cinghiali ultimamente. Le nutrie vanno nei canali, vanno all'interno dei terreni agricoli. Quindi i terreni agricoli chiaramente è un problema specifico dei nostri agricoltori, specifico dei consorzi di bonifica. Ma le possono uccidere gli agricoltori queste nutrie? Assolutamente, dobbiamo avere all'interno del piano di contenimento e quindi in un momento in cui si individua una nutria si deve dare mandato alla polizia municipale oppure ai controllori delle nutrie che devono intervenire in questo. Però ecco, su questo dobbiamo attuare i piani di contenimento, dobbiamo avere la forza e la concretezza per fare tutto quanto questo. Nel Parco Colli adesso c'è una nuova gestione, come sta andando? Piano di contenimento? Facciamoli lavorare e auguriamo buon lavoro al Presidente Mazin che tra l'altro è anche sindaco e tutta la giunta in cui gli agricoltori sono rappresentati all'interno del parco. Ci stiamo lavorando tutti insieme. Lavorare all'interno di un parco è estremamente importante soprattutto per valorizzare quei prodotti ma per valorizzare... Perché è una ricchezza pazzesca in realtà. Sì, però dobbiamo valorizzarlo, soprattutto dare forza all'interno del parco perché l'ambiente e il territorio di quel parco è un elemento molto importante nel Veneto ma soprattutto importante per Padova e quindi cerchiamo di lavorare insieme per creare quei presupposti importanti che diano la possibilità a quei che vivono all'interno del parco che non sia un elemento negativo a essere all'interno del parco ma positivo per i propri prodotti, per il proprio territorio. Tra l'altro il parco è un po' particolare quello dei Colliogani perché è uno dei pochi parchi che è tutto privato sostanzialmente. Sì, sono diverso terreno e diverso aspetto. Molti nostri concittadini vanno nel parco Colli a sabato e la domenica però dobbiamo capire che lavorare all'interno di un parco è molto gravoso soprattutto per le nostre aziende agricole che a volte non vengono corrisposte anche in questo caso il giusto valore. Quindi valorizzare i prodotti del parco. Non solo valorizzare il prodotto del parco ma valorizzare anche l'attività dei nostri agricoltori all'interno del parco perché i nostri agricoltori fanno ambiente, fanno territorio, mettono a posto i pascoli, i prati, la forestazione e quant'altro e quindi andare su un posto dove c'è un paesaggio bellissimo chi lo ha fatto quel paesaggio lo stanno facendo i nostri agricoltori quindi diamo a valore i nostri agricoltori per il lavoro che oggi stanno facendo all'interno di quell'area. Ecco per curiosità, visto che ci è stato fatto più volte, ecco vediamo un messaggio. Le nutrie mi stanno erodendo tutto l'argine confinante e io devo periodicamente sistemarlo a mie spese e fatica non poca. È proprio questo il punto, cioè molto spesso è a carico dei nostri agricoltori e dei nostri agricoltori appunto che devono sistemare i danni che stanno provocando. Ma dovrebbe essere il consorzio di bonifica che si occupa dell'argine o sedemaniale, demani? Sì, ma do sempre l'esempio del Brenta che è quello che conosco di più, il consorzio di bonifica ha 3.000 km di argini, 3.000 km, cioè è difficile dire al consorzio devi sistemare. Sì, il consorzio ci metterà il proprio impegno però deve essere un impegno complessivo di tutti gli attori, quindi i consorzi, la provincia, le regioni, tutti insieme. Intanto però il privato che se vuole risolvere un po' con il discorso. Sì, non solo il privato ma in questo caso i nostri agricoltori che sono quelli che restano con il problema sia per quanto riguarda i cinghiali sia per quanto riguarda le nutria. C'è stata una ghiacciata all'inizio di aprile, ha avuto ripercussione anche nel territorio padovano? Sì, l'abbassamento di temperatura ha creato quasi da un 50-70% in base a tipologia di varietà frutticole che ha colpito una riduzione e quindi su questo ci stiamo lavorando come CIA a livello nazionale perché vi è venga riconosciuto il giusto indenizzo ai nostri agricoltori. Quando capitano questi disastri è un problema grossissimo per le nostre aziende. Se poi è un settore specifico che è il settore frutticolo, che il settore frutticolo poi è quello che nel 2019 aveva avuto problemi con la cimice asiatica, se facciamo uno più uno facciamo veramente elemento disastroso in quel settore, oggi in difficoltà. 4.000 ettri più di 600 aziende nel nostro territorio. Cimice asiatica per adesso? Speriamo bene, c'è la Vespa Samurai che dovrebbe in qualche maniera trovare soluzioni e quindi a breve faremo le analisi e valuteremo in cui è stato fatto lavoro con la Vespa Samurai per contrastare la cimice asiatica, vedremo i risultati e siamo molto fiduciosi di questo. Vediamo se, è una curiosità che ci aveva manifestato il nostro telespettatore tempo fa con una mail dicendo la carne di cinghiale che si trova in alcuni ristoranti agriturismi della zona degli Ugani, eccetera. È carne nostrana, cioè carne catturata di cinghiali del posto? Come funziona? Funziona nel fatto che tra l'altro dovrebbe essere carne del posto, se andiamo sulle aziende agrituristiche che hanno sempre in quella legge regionale della possibilità dell'utilizzo della carne di cinghiale chiaramente del posto. Nel momento in cui c'è l'uccisione del cinghiale nel parco Colli ma anche nel territorio Veneto, questo viene sezionato, viene analizzato e poi viene venduto naturalmente anche alle aziende agrituristiche ma soprattutto anche ai ristoratori. Quindi l'altra importante possibilità che abbiamo è quella di valorizzare la carne di cinghiale come fanno in Toscana e come fanno in tanti altri territori, mantenendo sempre un elemento importante che la fauna selvatica è l'altro elemento caratteristico del settore agricolo e quindi noi non stiamo qui a dire eliminiamo la fauna selvatica perché crea problemi in agricoltura dobbiamo gestirla, questo sì, quindi la gestione della fauna selvatica e la propria supervivenza all'interno di un territorio deve essere gestita in maniera corretta. Comunque le diceva, è carne che una volta che viene catturata eccetera viene controllata la sua salubrità insomma. Ma sta scherzando, assolutamente sì, anche perché tra l'altro i cinghiali sono portatori di malattie epitosee come la peste suina, lei si può immaginare noi abbiamo molti allevamenti di suini nel territorio si può solo pensare se vengono attaccate la peste suina cosa vuol dire per un intero settore che è il prodotto di settore suico. Quindi c'è anche pericolo effettivamente questi cinghiali se non controllati perché uno pensa soltanto animaletti che si muovono, che danno fastidio, assolutamente no? Assolutamente no e quindi deve essere sezionato la carne controllata e poi data l'autorizzazione per la vendita. Perfetto, l'ultima cosa che mi viene come curiosità di pochi secondi, ne ha parlato anche il presidente Zai delle transumanze di pecore nel territorio, transumanze che riguardano anche il territorio di Padova tra l'altro sono percorsi che verranno tutelati, protetti perché è importante che la produzione di pecore insomma La transumanza si parla di pecore ma se noi facciamo l'esempio dei nostri malgari che sono nell'area dell'Alta Padovana e che ogni anno vanno a Siago ma vanno anche nelle malghe del grappa la transumanza era un elemento importante Va valorizzato e quindi assolutamente oltre ad essere valorizzato va tutelato e quindi quando vediamo della transumanza delle pecore e delle mucche è un elemento di grande felicità da parte di tutto perché fa parte della cultura veneta, fa parte della cultura contadina E quindi ben vengano anche le tutele di questi percorsi insomma Allora direttore grazie mille di essere stato con noi i nostri telespettatori vi ringraziamo per aver partecipato, averci mandato i vostri messaggi mandate pure le vostre mail poi noi le leggiamo e comunichiamo i nostri esperti Grazie ancora, buon proseguimento e a presto Grazie a lei Grazie a lei